Ha fatto il comando provinciale dei Carabinieri, sono qui con il comandante, col colonnello Salvatino, che ringrazio per l'impegno insieme a tutti i suoi uomini per questa attività che è stata fatta. Facevo adesso le riflessioni col colonnello, come le avevamo fatte anche con gli altri uomini e con i comandi territoriali, con il nucleo, con il mezzo del lupio e altri, che quest'estate c'è stato questo omicidio, del quale i media si sono dimenticati, non per colpa, per carità non è una scusa, ma ti dà un po' l'idea di come sia oggi la società, mentre si inseguiva un altro fatto altrettanto importante, insomma, c'era un uomo bruciato, ucciso selvaggiamente con undici e più pugnalate, undici quelle che abbiamo contato, ma probabilmente sono anche di più, bruciato sul posto e noi non sapevamo neanche chi fosse, nessuno lo reclamava, nel 2020 non c'era il momento in cui le denunce fioccano perché un cane è stato bastonato, anche giustamente, ma perché ci sono altre cose, c'era una persona del quale nessuno si disinteressava, perché noi non sapevamo chi fosse, quindi il lavoro dei carabinieri è dovuto partire non soltanto dal lavoro ordinario della ricerca del responsabile, ma prima ancora della ricerca di chi fosse la vittima, devo dire che questo mi diede, ci diede, mi procuro un po' di sconforto, ma i carabinieri hanno lavorato benissimo, siamo riusciti a verificare attraverso la ricostruzione, vedete un po' il comunicato stampa e soprattutto le immagini che sono state diffuse, descrivono un po' tutto quello che è stata l'indagine, certamente la descrivono in due minuti, ma è una cosa che è durata tre mesi, ed è stato un impegno anche emotivo, perché pensavamo, ma può essere mai che nessuno sa chi sia questo, che se uno può morire così, essere buttato o bruciato in una discherica senza che nessuno lo pensi a chi sia, a cosa ha fatto, come è finito, e alla fine la ricostruzione che è stata fatta attraverso i filmati, attraverso tutte le analisi che sono state effettuate, si è riuscita a ricostruire l'identità della vittima e l'identità del responsabile, in un contesto sicuramente di degrado, ma anche in un contesto in cui, certo, non ci avrete letto un po' quali siano le impostazioni delle cose stesse. Io, permettetemi di ringraziare per il suo impegno, oltre, l'ho già detto, al Comando Provinciale, al Nucle Operativo dei Carabinieri e ai Comandi Territoriali di Milazzo dei Carabinieri, anche la dottoressa Barbieri che ha fatto il lavoro straordinario, non dimentichiamo che è l'unico sostituto, almeno fino a dopo domani, quando prenderanno funzioni altri quattro magistrati, ma è stata lasciata unico sostituto, pur essendo in applicazione da altro distretto, quindi non è stato facile neanche ritagliarsi materialmente il tempo d'estate, per questo lavoro. Un delitto efferato è un'indagine da manuale. Come sono stati i mesi successivi a luglio per il killer? Ma guardi, sul killer noi non abbiamo, lo attenzionavamo da un certo momento in poi, ma non era un delinguente di quelli abituali o comunque una persona del crimine. È una persona che viveva in un contesto sicuramente degradato, in un contesto molto particolare. Noi lo ascoltavamo, però non trapelava né alcuna preoccupazione, anche perché dobbiamo dire che quella assenza di di rimbalzo mediatico, di cui dicevo prima, è stata molto bene utilizzata da chi ha fatto le indagini per mantenere basso il profilo e consentire di lavorare nell'ombra, che forse è la cosa migliore. Quindi noi lo ascoltavamo, è una situazione in cui lui probabilmente non pensava neanche di essere sotto attenzione, mentre invece noi, grazie alla ricostruzione dei cosi filmati e poi alle intercettazioni che sono state fatte, abbiamo ricostruito un po' i suoi polini. Era stato arrestato precedentemente, era pregiudicato per quale reato? Ma aveva una rapina di molti anni fa, quindi non era neanche un soggetto sottoposto a un'attenzione momentanea, diciamo era uscito un po' dai radar investigativi perché era da tempo che non delinqueva, aveva una rapina di antia tanti anni fa, niente di particolare, più il contesto ambientale che le capacità criminali. Come mai? Mi chiede la premedicazione dell'omicidio, ma la distruzione del cadavere è un'idea che è arrivata dopo oppure nel contestuale lui ha previsto anche questo? Lei mi chiede cose che saranno oggetto di discussione nel processo, sicuramente come un potuto ovviamente, come anche la responsabilità del soggetto per carità, però questo è un aspetto sul quale noi abbiamo lavorato unitamente gli investigatori, unitamente la dottoressa Barbieri, su cui abbiamo ragionato molto. La premedicazione è contestata perché noi abbiamo visto che il soggetto per più di una volta nei giorni precedenti aveva fatto dei sopralluoghi sul posto e in un'occasione aveva visto che c'erano i carabinieri sul posto e si era allontanato pensando di non farsene accorgere, dopodiché non dimentichiamo che per bruciare un cadavere non è che accendi un fiammifero, deve avere qualcosa dietro, quindi deve aver predisposto qualcosa per un'organizzazione e di conseguenza la premedicazione, noi riteniamo che sia un elemento sicuro che tra l'altro il primo step lo ha retto. Abbiamo letto che questo delitto è stato finalizzato alla pensione, una pensione a dire il vero anche abbastanza piccola, ma nei mesi successivi ha avuto accesso nuovamente alla pensione o tutto davvero si è risolto in 650 anni? Non lo ha più, allora non sappiamo se mai per i periodi precedenti quali fossero i rapporti sulla pensione stessa, sappiamo però che nei periodi successivi la pensione non è stata riscosso. Va bene così, grazie a tutti voi.